Presentata in Consiglio regionale una proposta di legge sul sistema degli autoporti in Abruzzo. Sì, noi abbiamo tre autoporti in Abruzzo, parliamo quelli di Castellalto, parliamo quelli di Roseto, parliamo quelli di San Salvo, tre autoporti che sono stati realizzati, non funzionanti, abbandonati a se stessi, classico esempio di come si sperpera il denaro pubblico. La mia proposta è che non aspettiamo di spenderci altri soldi per renderli funzionali, tant'è vero che questa giunta regionale pensa di portarci su questi tre autoporti altri 8 milioni di soldi pubblici. La proposta quindi è di fare subito una gara, un bando che chiama in causa i privati per la gestione e per il completamento, cioè per rendere funzionale queste basi logistiche. E gli 8 milioni che noi andremo a risparmiare per la gestione del FAS li destiniamo al mondo dell'occupazione e delle imprese. Un'iniziativa che speriamo sia raccolta dalla giunta. L'assessore Morra che ha risposto alla mia interrogazione con il quale ha avuto la possibilità di parlare di questo argomento, si è detto d'accordo, disponibile a una condivisione di una legge che va verso questo tipo di prospettiva. Grazie per la visione!